Non parate, non parate! Scusa, caro, facciamo un altro giorno o un'altra visita. Ci serviamo? Sì, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Luca, ti sono mancato? No. Ah, caro, solo perché sei qui. Perché hai il pantalone di rosa? Allora, come ti vai? È passato di tempo, eh? È il brutto di quando ci si lascia, si perdono le amicizie. Ci siamo divertiti però, vero? Perché già che io ci siamo divertiti per questo inattuato, già. Meravigliosa, vero? Adoro le creature stupide e bellissime. Questo mi è familiare. Allora, i Men in Black ti hanno messo alla porta? Veramente mi ci sono messo da solo. Oh. Certi cavalli sono nati liberi. E altri vengono abbattuti. Che ci fai qui? Volevo vengerti e ti ho portato una cosa. So che ti piacciono gli animaletti domestici, così ti ho portato un segno di pace. Miau, miau, pao, pao. Come ti avrete? Oh, mi piace. È carino nella sua bruttezza. L'ultimo della sua specie. Hai sempre saputo come arrivare al mio cuore, vero? E tu come far battere il mio un pochino più veloce? Nessun neuralizzatore mi farà dimenticare questa frase. Sai, già prego stavo di farti a pezzi con le mie armi. E poi ho visto quel tuo perfetto... Dulce faceno e... Io devo sapere. Che cosa? Voglio sapere la verità. Era tutto vero? Questo... Sto, io, devi. Ci sarà da ridere. Era vero? Io non sapevo chi eri fin dall'inizio. Il mio compito era conquistarmi la tua fiducia e farti fuori alla prima buona occasione. Questa è la verità. Ah, sì, devo spegnere l'alicolare, meglio. Ma sta zitta? Cosa? No, è quello che dico sempre al mio cuore quando è come una voce nella mia testa. Oh, non lo so. Non avrei potuto fingere. Grazie. Figurati. No, grazie per avermi dato la possibilità di chiudere. Tonti abbiamo bisogno di chiudere prima o poi. Portalo via. Cosa? Aspetta, no, ehi, un secondo. Anch'io ho bisogno di chiudere. E se ti metti, ne ho anch'io. Ti do una dritta, tesoro. La prossima volta che mi porti un dono di pace non parlo il giorno in cui entro in possesso dell'arma più potente mai credente. Non c'entra niente. Non sapevo neanche che avessi un'arma. Sono due cose diverse. È una coincidenza. Tu lo sapete? Ho messo un'arma? Tu lo sapete? Portatelo alla patta. Va bene, ok, va bene, ok. Bene, ragazzi, è andato abbastanza bene. Sembra che passerivo altro tempo insieme. Bene, ragazzi, è andato abbastanza bene. Sebastiano, tesoro, ti piacerebbe poter distruggere interi sistemi solari senza uscire di casa? Benino. Sì, lo vedo. Oh, ma guarda un po'. Vieni per andare. Ok, Benino, dipende tutto da chi. Questo genere di persone non è costruttivo. È molto semplice, tesoro. La vuoi o no? No, io ho chiusato uno, Sebastiano, e non l'avrò più brutto. Questa ci spedì un po' poter produzione. Non è quel pa qualité è molto importante, Mamma, non è molerà.